L'incontro, logo come identità comunicativa, segna la chiusura a Favara della 17esima sagra dell'Agnello Pasquale. Nella saletta universitaria del Castello Chiaramonte è stata presentata la tesi di laurea del tecnico pubblicitario Luca Caserta. Lavoro incentrato sull'immagine del prodotto Agnello Pasquale. Quanto è importante l'immagine di un prodotto? L'immagine di un prodotto è importante per vari motivi. Uno dei motivi è quello di essere riconosciuti sia all'interno del territorio di Favara, ma sia rafforzare l'immagine che Favara e il prodotto Agnello Pasquale ha al di fuori dei confini territoriali. Il mio lavoro è quello di andare a realizzare un marchio. Il marchio ci indica qual è l'identità del produttore, la propria appartenenza, la propria provenienza. Oltre a questo ho cominciato a sviluppare un logo. Questo logo parte da alcuni motivi che si ritrovano all'interno del Castello Chiaramonte. Successivamente ho realizzato questo packaging in modo tale che richiamasse sia il Favara attraverso i colori, i colori che sono importanti. Il mio packaging si sviluppa attraverso un unico colore, il verde. Esattamente ho cercato di ricreare un pochettino il verde pistacchio. E poi utilizzo quello che si chiama cartone, cioè proprio allo stato grezzo. Nell'ultimo giorno della rassegna dedicata al dolce tipico favarese, spazio anche ai prodotti agroalimentari della filiera corta con la presenza in piazza Cavour del mercato Campagna Amica di Coldiretti. A fare da cornice diversi esemplari di autostoriche a cura del club moto e auto d'epoca dei Templi. Quest'anno sta riuscendo veramente bene. Oggi si sta svolgendo una giornata veramente ricca che parte con il mercato del contadino della Coldiretti, dove praticamente abbiamo una degustazione dei prodotti agroalimentari e un'esaltazione della filiera corta. Nel senso che oggi nella piazza centrale di Favara si ha un vero e proprio incontro tra le aziende agricole di Favara e i consumatori favaresi che hanno la possibilità di acquistare direttamente i prodotti agricoli. Allo stesso tempo si sta svolgendo una grande mostra di auto d'epoca in piazza Cavour. Accanto abbiamo il Palazzo Fanara dove si ha una degustazione di prodotti tipici e le mostre artistiche. Mentre al Castello di Chiaramonte, oltre alle varie mostre di moto d'epoca e altro, si sta per iniziare un convegno sul marketing e il logo dell'Agnello Pasquale. Quindi sono veramente molto soddisfatto. Ringrazio Antonio Moscato, presidente della Prologo, per l'organizzazione e per la grande riuscita di questa diciassettesima sagra. L'edizione 2013 della Sagra dell'Agnello Pasquale verrà ricordata per la riapertura al pubblico dello storico Palazzo Fanara di piazza Cavour, che ha ospitato oltre alle diverse mostre artistiche anche prelibatezze dei pasticceri e dei panificatori locali. Mi è sembrato giusto da Favarese mettere a disposizione i miei locali di casa per pubblicizzare meglio sia l'Agnello Pasquale che Favara. In chiusura di Sagra, il presidente della Prologo Castello, Antonio Moscato, finora direttore artistico di tutte le edizioni della Kermess, nonostante lo stesso definisca positivo il bilancio consuntivo della Sagra, ha annunciato di aver deciso di lasciare ad altri la guida dell'evento. Il nome di Favara è stato sui network, nella carta stampata, se ne è parlato, penso, in modo positivo. Vorrei ricordare ai nostri pasticceri, al quale va il mio ringraziamento a quelli che ci hanno sostenuto, che l'Agnello Pasquale non appartiene a loro, appartiene a questa città. I panificatori sono stati bravissimi, sono dei maestri, ma anche loro, il loro prodotto, ricordatevi, appartiene a un territorio. Senza una storia dietro, tutti questi prodotti non hanno motivo di esistere. E magari il prossimo anno ci sarà qualche altra novità, penso che qualcun altro si occuperà della Sagra. Il mio ciclo penso che sia chiuso, ringrazio il sindaco per le parole di stima, ma c'è una certa stanchezza. 17 è un bel numero. Soddisfatto della buona riuscita di questa edizione, si è detto anche il sindaco di Favara, Rosario Manganella, che nonostante i periodi di crisi economica, prevede un maggiore impegno organizzativo dell'ente per il 2014. Vorrei ringraziare innanzitutto il Presidente della Proloco e tutte le associazioni che hanno collaborato nella iniziativa di quest'anno. Per il prossimo anno le ambizioni sono sempre tante e tali. Purtroppo a volte, come è capitato anche quest'anno, dobbiamo fare conti con la situazione finanziaria in cui versa il nostro comune che non ci ha consentito di poter fare molto di più. La diciassettesima Sagra dell'Agnello Pasquale non poteva chiudere i battenti se non con la degustazione del prodotto dolciario orgoglio della città di Favara.